Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io non sono Favij, io in realtà sono Yoda Ed oggi siamo tornati su Omegle In realtà ragazzi era da tanto che non facevo Omegle Tipo è passato all'incirca più di un anno se non sbaglio, l'ultima volta che l'ho fatto Quindi sono un po' emozionato nel rifarlo Chi non lo sapesse ragazzi Omegle è un sito dove si possono incontrare fan, dipende da cosa viene utilizzato Quindi ragazzi basta premesse perché non sto più nella pelle quindi cominciamo che è meglio D'accordo ragazzi ci siamo, ho detto di scrivere la frase Lasciate ogni speranza a voi che entrate su Omegle sperando di incontrare Justin Bieber A tutti coloro che volevano partecipare Quindi chi scrive questa frase adesso dovrebbe apparirmi nel video Ecco io sono bellissimo Ok va un picco Ah regà calmi Esplosa una bomba Che sta da fare? Buonasera, buonasera sono le 4 Non so che buonasera può essere Buonasera 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 Ciao frate Oh ecco ti Bene bene Certo ci mancherebbe altro Mi metto via Un'altra 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 E' calendario qui Che era il gatto Cos'è? Ma che è? Oddio Che cazzo è? Dalla finestra Ma che tieni i ragazzini chiusi Ma che è? Che cazzo? Mi sembra di vedere l'alba dei morti viventi L'ho visto l'altro giorno Ma che? Sto facendo un video Bravo Bravo stai facendo il video A presto Ciao ciao Ok che faccio schifo Però un po' più di tatto Questo è l'effetto che faccio la mattina Quando mi faccio vedere da mia mamma Che sono spettinato Non stai registrando vero? No non sto registrando Ragazzi è stato un piacere E' quello vero Questo è il pezzo dove devi fare questa cosa Come ti chiami? Alice Alice Ciao Alice Io sono venuto anche all'incontro Ti ho inviato anche la foto su Messenger Dove ti ho detto Sembra che mi guardi le tette Una cosa del genere Io? Fammi vedere questa foto Mandamela immediatamente Io non guardo le tette alle ragazze Questa cosa Noi sfatiamo questo mito Ah ah Sì vabbè Tesoro Non è che sto guardando Sto evidentemente guardando La collana Ma buone diciamo Ma che discorsi sono Alice Ma di cosa stiamo parlando? Che problemi ti Cioè ma ti pare Se ci rincontriamo di nuovo Metto gli occhiali Devo fare lo screen Certo Ma ci mancherebbe altro Siamo belle Ah Sono contenta Grazie Grazie Anche io sono contento Per tutto il tempo di questa chiamata Io ti ho guardato Gli occhi Tipo una vecchia Che si stava massaggiando Il caffè Solo Sì sembrava Madonna che spavento Sì 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 Perché ci credo Che tu non parli Fabi Non me lo ricordo Io li ho visti tutti i video E devo dire Che non me lo ricordo Questo video Sei molto scaltro Granduomo Porca Fabi Che hai visto? Stai vedendo la mia condivisione Samuel Non puoi avere Il mio stesso paio di cuffie Non esiste L'ho presa quando dicevi 600.000 iscritti Non sai da quanto cazzo Ti seguo Madonna Grande zì Mamma vieni qua Come mamma vieni qua Che metti sto video su YouTube Mamma c'è Fabi suo amico Ora sto parlando con lui Ma come? Ciao mamma Ciao Salve Che bello vede Anche adesso aspetti Aspetti Chi è? Buongiorno Funziona sto cosa? Che devo fare? Niente Faceva ridere il contesto Bella a tutti i ragazzi Voglio il cappellino Il cappellino Signora Guardi Ho vasta scelta Oddio È partito Justin Bieber Mi scusi Scelga Disponiamo di vasta scelta Quello là giallo Quello è il gattino giallo Questo di Totoro Mi scriva Che glielo invio Mi ha fatto piacere Caro amico mio Ci vediamo Ciao Salve Arrivederci Che bello avere Dei ragazzi come voi Siete fantastici Ciao zia Come stai? Oh cazzo Oh cazzo È un nome che non avevo pensato Però è carino Tutto bene? Oh cazzo 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 Se hai qualcos'altro Nel tuo repertorio Di frasi A parte Oh cazzo Oddio ti prego Dimmi che sei davvero tu Io sono Oh cazzo Oddio aspetta Aspetta Devo chiamare la mia migliore amica Aspetta Se hai bisogno Di respirare In un sacchetto Per non svenire Il sacchetto Oh cazzo E siamo a tre Sauna Sauna parla con Fabi Day Sì vabbù Non ti sento Però vedo che mi imiti Quindi siamo a posto Oddio Oddio Ti si trasformano i capelli zio Avvicinati un po' Alla webcam Avvicinati Eccolo No un po' Pi' indietro Devi diventare bianco Eccolo Dio mio no Sembrava che stessi diventando Un super saian Io guarda Pensa che ti seguo Da I tempi di The Shared Gaming Ma dai Veramente Grande zio Parla ti prego Se no non ci crederà mai No vaffanculo No vaffanculo Ti prego parla con lei Te lo giuro Aspetta adesso ti faccio la foto e te la mando Aspetta Fabi Aspetta un messaggio Dai no 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 Favi 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 Ti prego Dai Io ma ci ho spostato Ve lo fanno Va bene Oh minchia Troppo buono Se no Cazzo che uscivo Fissiamo le date del matrimonio Sì 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 Dipende Se posso giocare alla Playstation Tutto il tempo prima Sempre sempre Anche con me Anche con me Dove sei stata Dove sei stata cara Un bacio Ok Ciao carissima Ciao Ma 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 quello lì è il mio armadio Cioè il mio armadio In camera Oddio Ferma Ferma lì La sedia La sedia Guarda la sedia È un guai Cazzo ma come è possibile Questa cosa Come cazzo fai ad avere la mia sedia Come fai ad avere il mio armadio Hai anche Jake Sei me Versione donna Magari Siamo la stessa cosa In questo momento Solo che io non c'ho questo De coltè Sai che se tu metti la webcam La gente pensa che sia io Sì appunto Mi scrivevano Fabi Sì vedi che mi somigli pure Io con questi lunghi capelli biondi Ciao Ciao No regà C'aveva le mie stesse cose È pazzesco Oddio Ciao Ci siamo incontrati due volte Dal vivo Veramente Sei un ragazzo bellissimo È la forza del capezzo Ciao cara Alla prossima Ciao caro Come stai? Hai i capelli più disordinati Dei miei la mattina Però è comunque Un piacere Sì però ascoltami Già stai messo male I capelli Non stare a fare cose Faccio Faccio Bravo Bravo Perfetto No È una roba Se facciamo a gara Non so chi vince Metti in pausa E metti in pausa Arrivo È stato un piacere comunque Ciao Fabi Sono io Justin Bieber Oddio Justin Ho sempre voluto vederti Su Omega Fermo Voglio una foto Certo Ho voglia Qua ci vuole una posa sexy Da Justin Bieber Devo fare una posa sexy Da Justin Bieber Aspetta aspetta che provo a imitarlo Aspetta Respira Comunque fammi un piacere Sono giapponese No 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 È un fake No no non ti credo È un fake No no non fare foto così Devo mettermi in pausa prima Grande È stato un piacere È stato un piacere rivederti Cara mia La cosa che ti volevo dire Anche per me Basta Ho capito Il tuo tatuaggio È bellissimo Questo? Ti piace il mio tatuaggio? È bellissimo Grazie Ancora foto Va bene Ciao Che cosa sei? Oddio 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 C'è un umano lì sotto Ma cos'è? Oddio 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 Tesoro Ascoltami No 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 Adesso mi Ascolta Ascolta That's it Un attimo Ultimamente fa un po' più freddo Perché è ottobre Sai Ma sti cazzi Cioè nel senso Prendi una felpa Non è che ti devi imbardare Manco fossi Tutankamon Nel 2015 Ciao Ciao Bacio Va bene ragazzi Concludo qui l'episodio È stata Io potrei continuare Veramente tutto il giorno A far sta roba Perché mi diverto Io mi diverto Come un deficiente A farlo Non lo so perché Veramente io vi ringrazio Di essere sempre così affettuosi Perché dio mio È una cosa bellissima Non ve lo so neanche descrivere Ragazzi Vi giuro Vi ringrazio di essere Sempre così Meravigliosi con Meg Ed è una cosa Veramente incredibile Grazie 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 Io concludo qui l'episodio ragazzi Spero che il video vi sia Piaciuto Come al solito Se il video vi è piaciuto Lasciate un momento Mi piace Anche la pagina di facebook E come nei video Tratta nella descrizione Se non siamo restiti Iscrivetevi Ci vediamo Nel prossimo video Bella ragazzi Ciao a tutti 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 Ciao a tutti